Personalmente mi rendo conto che oggi come oggi i ragazzi sono assolutamente consapevoli delle loro scelte perché hanno la possibilità di poter conoscere informandosi e venire anche sul posto in quanto Rufa offre degli splendidi Open Day ai ragazzi che hanno intenzione di entrare in questa accademia, in questo percorso universitario per gli artisti e offrendo gli Open Day naturalmente i ragazzi hanno anche l'opportunità di toccare con mano quali sono i risultati Rufa per ogni dipartimento della stessa accademia. Durante gli anni di didattica con loro e di frequentazione con loro nell'accademia io organizzo uscite insieme nel visitare delle mostre. Succede che io li posso segnalare, li posso presentare, li posso coinvolgere anche per quanto riguarda conoscenze mie personali del mondo dell'arte e far capire loro anche come funziona il sistema e mercato dell'arte. Questo poi avviene con molta naturalezza un domani che loro, avendo acquisito questi strumenti, consapevolezza e anche un linguaggio personale, possono prendere in considerazione di tornare con me dal gallerista o piuttosto che dal mercante, piuttosto che dal collezionista, che a loro volta avevo già presentato in qualche modo e poi iniziare un loro percorso personale. Questo è già avvenuto, personalmente il Dipartimento di Pittura ha avuto degli allievi che sono arrivati alla Biennale di Venezia e quindi questo significa che l'impegno da parte nostra nel proiettarli nel mondo dell'arte c'è sempre ed è anche un grande orgoglio dello stesso docente. Le prospettive lavorative, ahimè sappiamo tutti quanto oggi sia un po' precario poter avere delle aspettative in questo senso ma questo non vuol dire che non si possa credere in se stessi, non si possa credere in un sogno, non si possa credere nella meraviglia di quello che può accadere nella vita, nel senso io ritengo comunque anche l'esperienza mi detta che un pittore praticamente rappresenta sulla tela un qualcosa che abita dentro di sé, dentro di lui da sempre, quindi mondi nuovi. Un pittore ha una sensibilità maggiore nel percepire quello che accade intorno a lui e saper dipingere e leggere la pittura vuol dire anche essere molto percettivi per cui queste qualità che vanno anche lette un po' oltre se stessi, oltre la propria persona possono proiettarci anche in dimensioni, sempre nel mondo dell'arte, che possono riguardare se non la pittura stessa, il teatro, il cinema, la televisione, l'arredamento, il design, la moda e perché no anche l'insegnamento.